Presidente, io la ringrazio, sta arrivando Bersani, glielo saluto. Ah guardi, no no, me lo saluti per favore assolutamente, io mi ricordo sempre di quando dopo l'attentato che abbia subito in piazza 2 a Milano, venne a trovarmi in ospedale e rimase con me tenendomi la mano tra le sue per mezz'ora. È davvero una persona per bene e generosa, me lo saluti tanto. Grazie Presidente. Allora Bersani, Berlusconi è affettuosissimo con lei, Berlusconi che fa l'opposizione responsabile, che dice che vuol dare una mano, che si distingue dal resto del centro-destra e poi Berlusconi di ieri che presenta insieme a Salvini Emanuele la mozione di sfiducia per Bonafede. Cosa ne pensa di questa vicenda di Bonafede? Mi incuriosce molto. Ah intanto adesso mi fa sentire una cosa di Berlusconi, quando uscii da lì dall'ospedale una signora anziana, ben vestita, mi aggredì, urlando indignata, ecco voi comunisti prima lo massacrate e poi andate a trovarlo. E io gli dico, signora, ma non dica così, guardi l'importante è che sta bene, guardi è proprio lui. Questa signora improvvisamente addolcita mi dice, ah grazie, 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 potenza dell'innamoramento. E' vero, veramente, per amore di Dio. Detto questo, Forza Italia ha un andamento un po' alterno, un po' da cabottaggio. Ogni tanto si allontana dalla riva leghista, ogni tanto viene richiamato, fai la sfiducia individuale a Gualtieri, Forza Italia dice no perché non si è mai fatta, non è d'accordo se è un po' individuale. La fai con Bonafede, sì. Quindi suggerirei un po' di linearità. credo che sia giusto, quando dice ma noi non vogliamo far stare il governo, aiutare il governo, ma vogliamo avere un'opposizione che tenga conto dello stato, della situazione. Quindi sta dicendo, caro Silvio, rimani sulla sponda della responsabilità. Ma certo, ma come farai? Io non so, io ho fatto anche io tante volte l'opposizione. Però se lei torna presto, la riaccolgo con piacere. Va bene, grazie. A rivedere.